PEGI 18 Questo posto non è un paradiso, è una prigione. Qui siamo in trappola liberi. In questo infinito, eterno ciclo. L'obiettivo della mia vita è su quest'isola. E non permetterò che continui. Più i giorni si ripetono. Più a lungo resto qui. E più sono sicuro. Di quello che devo fare. Il solo modo di proteggere il ciclo. Il solo modo di spezzare il ciclo. È ucciderti. Il tempo. È mio ameato. È mio ameato. È il tempo. È un'anima. Allora. 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 Allora.